Il ruolo che l'Istituto Tarassografico ha svolto per questa attività produttiva estremamente importante e storica del territorio ionico è notevole. Basti pensare che l'Istituto Tarassografico è stato fondato nel 1914 proprio con la funzione di sviluppare già allora la metilicoltura a Taranto, quindi ha quasi 100 anni, è più vecchio dello stesso CNR a cui appartiene e della stessa Università di Bari. Grazie a tutti.